Gentili telespettatori, buona giornata. Il PD chiede nuove tasse. Ma dai! Ma veramente? Vabbè, un centro-sinistra che ha provato in queste settimane, in questi mesi, ad andare contro una manovra del governo che non conoscevano, cioè è da mesi che sono contro una manovra che il governo ancora non aveva pensato. Voi direte, ma che caspita vuol dire? Si chiamano muri ideologici, faziosismo ideologico-propagandistico-elettorale, bugie ciclopiche, insomma, è da mesi che vanno contro una manovra che è uscita da poco. Già questo è una fotografia della realtà abbastanza triste. Va bene. A questo punto ci sono gli emendamenti. La corsa agli emendamenti sono delle proposte di modifica che si possono fare sulle leggi quando si discutono in Parlamento. Li chiamano emendamenti, sono delle proposte per modificare la legge che si sta votando. Si parla di congedo parentale che il Podì vorrebbe estendere di un mese all'80% dell'identità. E a questo punto, con quali coperture? Cioè, con quali soldi? L'obiezione sollevata da Renzi e Italia Viva diceva, vabbè, volete estendere, ma con quali soldi pagate questo? Bene. La proposta fu del campo largo, di un congedo paritario di cinque mesi interamente retribuiti per entrambi i genitori, fu bocciata in sede di discussione. Oggi il tema è lo stesso. Ma Italia Viva si è sfilata prima che tutto il centrosinistra andasse a chiedere questa estensione del congedo proprio perché mancano i soldi. Il PD, infatti, non ha detto che per estendere il congedo attingerebbe dallo sconto IRPEF, cioè aumenterebbe le tasse. L'unico modo che conoscono. Allora, alla domanda, cara Elena che ti fai chiamare inspiegabilmente Ellie, dove, caspita, prendi gli sordi per fare questi congedi pagati, eccetera, eccetera? Perché è facile proporre, anch'io posso proporvi, perché non facciamo lavorare gli italiani un giorno solo? Perché non mettiamo le pensioni a 6.000 euro le minime? Ecco, a fare proposte posso cominciare a parlarvi per 180 giorni di sciocchezze, di proposte campate per aria. Il punto è che quando fai una proposta di legge, devi dire dove prendi i soldi. E il modo più semplice per rispondere è metto nuove tasse. E così chiudi il discorso, no? Tu dici, vabbè, senti, c'è un problema nella sanità, tu Elena, come lo risolvi il problema della sanità? E lei ha risposto da Floris, Floris, mi chiede come risolvo il problema delle code, delle visite. Eh, assumo medici e infermieri, tutti quelli che servono per eliminare le liste d'attesa. E Floris le risponde, Eh, Schlein, ma questo, se poteva farlo il governo, lo avrebbe fatto. Secondo lei perché non lo fa? Perché sono cattivi o perché non hanno i soldi? Ha fatto l'obiezione che avrei potuto fare anch'io. Scusi, Schlein, ma la Meloni non assume i medici perché è cattiva? E lì che fa... Eh, 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 le liste d'attesa mi piacciono. Tiè, la Meloni non assume i medici perché è cattiva o perché non ci sono i soldi? E questa è la domanda a cui Elena non ha risposto. Adesso che è stata messa diverse volte nelle trasmissioni in difficoltà, adesso lei ha trovato la risposta. Dove prendi i soldi? Eh, la Meloni non ha fatto il taglio dell'IRPEF? Non ha cambiato le aliquote e ci sono dei soldi in busta paga in più? Ecco. Non fai più queste cose qua. Ritiri tutto, fai tornare l'IRPEF come prima, aumenti le tasse nelle buste paga, perché il taglio del cuneo fiscale e la rimodulazione dell'IRPEF ha portato oltre 100 euro in questi due anni in più nel netto delle buste paga. Quindi meno tasse e più netto. Il lordo rimane quello, ma meno tasse e più netto. Lei dice, vabbè, dai, ma il cittadino cosa se ne fa di questi soldi in più quando poi non può andare a farsi la visita medica e non ha i soldi per pagarla nel privato? Allora è meglio che gli ritogliamo i soldi che gli abbiamo dati, assumiamo i medici, così quando quel cittadino che ha 100 euro in meno di stipendio al mese deve andare a fare una visita, gli dicono la visita quando la faccio? Subito. Ecco. È una proposta, eh, attenzione. È una proposta. Lei dice, aumentiamo le tasse, con quei soldi assumiamo i medici, e così non ci sono più le file, così tu avrai dei soldi in meno in busta paga, però quando devi fare una visita non trovi fila. È una proposta, eh, è una proposta, solo che io credo che andare a togliere dei soldi a degli stipendi che sono già tra i più bassi d'Europa e vengono considerati degli stipendi da paese in via di sviluppo forse non è proprio il massimo della vita. Ecco. Forse se avessimo gli stipendi della Svizzera, io ricordo che tanti anni fa un mio amico da Varese e tutti i giorni andava a lavorare in Svizzera, faceva l'operaio in una fabbrica di cioccolato e guadagnava il doppio di me come quadro dirigente in un'azienda italiana. Il doppio. Il doppio. Il doppio. Facendo l'operaio di me che ero un quadro dirigente in Italia. Il doppio. Ecco. Forse magari se gli stipendi italiani fossero come quelli della Svizzera, dici, vabbè, sentite, dal tuo stipendio che hai, dammi 20 euro al mese perché abbiamo un problema con la sanità, facciamo un intervento straordinario, attogliamo 20 euro a tutti gli stipendi, in proporzione a chi guadagna di più o di più, però tu hai una sanità splendida. Però su degli stipendi che sono già da fame, stipendi da 1000 euro, gli togli 100 euro, perché il taglio del cuneo fiscale più la riforma dell'IRPEF ha portato negli ultimi anni a circa 100 euro di netto in più, io direi che non è propriamente la soluzione migliore, cara Elena, che ti fai chiamare Ellie, dove trovo i soldi, aumento le tasse e assumo i medici. Troppo semplice così. È una soluzione, per l'amor di Dio, è una soluzione che a me non piace. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie.